Essere missionari nei propri luoghi è il titolo della mostra degli oggetti vari che la Fraternità dell'Ordine Francescano Secolare organizza ogni anno nel sottoportico del Santuario di San Antonio a Chiavari. L'esposizione riunisce articoli di varia provenienza, da quelli di uso comune ad altri più curiosi. Ci sono tantissimi oggetti, c'è della biancheria, ci sono dell'oggettistica, ci sono piatti, bicchieri, quadri, c'è un po' di tutto. Oltre che visitare la mostra è possibile acquistare gli oggetti con un'offerta libera, un'occasione per sostenere concretamente le missioni dell'Ordine con un gesto semplice. Il ricavato viene utilizzato come gli altri anni, una parte per le persone qui del posto, poi noi abbiamo le tre missioni, abbiamo il serafico di Assisi dove ci sono i ragazzi handicappati e poi abbiamo la Terra Santa dove ci sono i frati in cui fanno queste case per i cristiani perseguitati che aiutano e il Burundi che è sempre stato il centro che noi abbiamo aiutato. La mostra rimane allestita fino al 10 dicembre e, grazie all'impegno di volontari, è aperta tutti i giorni. Si possono vedere i giorni feriali dalle 14.30 alle 18.30, i giorni festivi c'è il mattino, dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.30.